Una buona serata dal Palo San Giacomo di Conversano, scenario questa sera del primo appuntamento stagionale con la palla a mano femminile italiana. Si assegna questa sera la FIGH Supercoppa 2015, si affrontano in una tradizione ormai consolidata nei grandi appuntamenti dell'handball femminile italiana Conversano e Salerno. È una partita che ha segnato i trofei più importanti della nostra palla a mano femminile negli ultimi anni, Conversano e Salerno è il match che ha segnato le ultime due edizioni della Coppa Italia, l'ultima edizione della Supercoppa, lo Scudetto di due anni fa. Tradizione che si è interrotta lo scorso anno quando il Cassano Magnago è riuscito a raggiungere la finale Scudetto andando ad affrontare proprio il Conversano campione d'Italia in carica. Conversano che arriva a questo appuntamento con il triplete vinto e conquistato lo scorso anno Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa all'inizio della stagione. Abbiamo detto in Supercoppa si affrontavano proprio le pugliesi e le salernitane. Velocemente andiamo a vedere quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo con la formazione ospite, il Salerno che schiera Elisa Ferrari. Nuovo arrivo dal dosso buono estremo difensore. Poi Avram Coppola, il terzino Jokanovic dalla Serbia confermata. Poi Luvisa Ceglic, l'ex della partita. Lamberti, Napoletano, Ferrentino, Jacovello, l'altro portiere. Pavlik, Lauretti, Casale, Lambiase, Biraglia, il tecnico neotecnico della squadra campana, Salvo Cardaci. Dall'altra parte il Conversano di un altro neotecnico, Giuseppe Fanelli. Risponde con Giona Caccioppoli, Barani Rotondo, Roscino, Chiarappa, Aftodor, Minoia, Moroca, Logreco, Ganga, Lopriore, Bappo. E l'unico nuovo arrivo di questa estate, la danese Janni Havlik Jorgensen, classe 93. Arrivata dalla massima serie danese per dare manforte. Si tratta di un centrale. Si assegna dunque qui stasera il primo trofeo della stagione della pallamaro femminile, la FIGH Supercoppa 2015. Secondo episodio, tra virgolette, di questa competizione perché la settimana scorsa ad aprire le danze era stata la gara femminile, la gara maschile fra il Bolzano e il Pressano. Vittoria di misura 28-27 per gli altoatesini campioni d'Italia. Dirigono il match questa sera i signori Cosenza di Gela e Schiavone di Siracusa ancora qualche istante prima di procedere al fischio d'inizio qui al Palazzo San Giacomo. Un Palazzo San Giacomo che va via via riempiendosi. Non manca il consueto calore del pubblico conversanese per le proprie beniamine, autrici lo scorso anno di un'annata perfetta da incorniciare. L'abbiamo detto, primo scudetto della storia di Conversano, prima Coppa Italia, prima Supercoppa, tutto in un solo anno, in una sola stagione. vedete la carica delle giocatrici da ambe due le parti. Noi ne approfittiamo per fare un salto geografico perché in questo fine settimana si giocano anche le Coppe Europee, impegnate due formazioni italiane, entrambe in HF Cup, Coppe Europee Maschili e HF Cup Maschile. Primo turno impegnate Bolzano e Romagna. Romagna che gioca oggi la gara di ritorno contro il Varasdin. Vi forniremo più tardi gli appuntamenti mentre gli aggiornamenti arrivano già da Bolzano con la squadra italiana che affronta gli islandesi dell'Aucar nella gara d'andata ed è in vantaggio al 39esimo con il risultato di 19 a 18. Abbiamo detto gara d'andata, domani si replica sempre in terra altoadesina per il match di ritorno. Ma torniamo sul campo perché ci siamo quasi tutto pronto, anzi per il fischio d'inizio. Vediamo che Salerno parte in maglia dorata e attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia blu. Classica il conversano, Salerno che parte con Jacovello, Napoletano, Ceklic, Coppola, Jokanovic in posizione di centrale. Avram e Pavlik gli risponde dall'altra parte il conversano. Giona Traipali, Chiarappa, Barani, Jorgensen, Rotondo, Giona e la giovanissima Giada, Babbo, classe 97. Tendiamo ancora qualche istante, sentirete ovviamente nel microfono il calore anche del pubblico di Conversano. Tutto pronto, si può procedere al fischio d'apertura. E' iniziata al Palazzo San Giacomo, Conversano, Salerno finale della FGH Supercoppa 2015. Stretta di mano, subito sportiva fra Barani e Ceklic. Ceklic che lo scorso anno ha contribuito all'annata straordinaria di Conversano. Poi in estate il trasferimento a Salerno. 9 metri, si riparte con Napoletano che rimette in gioco Coppola in posizione di pivot, doppio pivot con Pavlik. Poi Avram si alza, lei ha parato subito, Giona parte bene il Conversano con questa buona parata di Giona. Poi Babbo non riesce a tenere il pallone in campo. Allora la penetrazione, vincente di Napoletano, l'1-0 di Pina Napoletano. Avanti Salerno. Quando se ne sono andati i primi 54 secondi. Giona, Rotondo, Ganga poi in posizione di centrale. Jorgensen impiegata come terzino destro, subito titolare quindi. Ganga il suo palleggio, lascia il pallone non preciso però per Rotondo deve ricominciare Conversano. Jorgensen va lei, prova la penetrazione Rotondo da fermo però è buona la palla per Barani. Ci sono gli estremi per un tiro dai 7 metri. Fallo di Avram per Rea di aver trattenuto da dietro Elena Barani. Tutta la solita esperienza di Elena Barani va a conquistarsi questo tiro dai 7 metri. Sostituzione subito tra i pali, esce Jacovello, entra Lambiase, terzo portiere della Rosa Salernitana. Dall'altra parte la specialista Laura Rotondo. Il fischio, vediamo. È apparato Lambiase ma la palla resta lì. E Rotondo la raccoglie e va a pareggiare 1-1. Subito la risposta di Conversano che rimette la gara in equilibrio dopo i primi due minuti di gioco. 1-1 il punteggio. Attacca Jokanovic. Avram. Jokanovic ancora la sua finta. Jokanovic scarica su Avram. Pavlik si gira bene. Pavlik all'incrocio dei pali. Bella l'azione qui di Oksana Pavlik. E c'è il 2-1 nuovo vantaggio. Subito però dall'altra parte Laura Rotondo. Due reti di Conversano. Due reti della sua trascinatrice. La conversanese Laura Rotondo. Ecco l'aggiornamento intanto da Imola dove alla palacavina parità al termine del primo tempo. 10-10 fra Romagna e Varzdin. Ricordiamo però che il Romagna ha bisogno di una vera e propria impresa per passare il turno. 10 le reti da recuperare dopo il 26-16 in favore dei croati. Alla termine della gara d'andata giocata la settimana scorsa in Croazia. Qui sul 40 per 20 del Palazzo San Giacomo intanto c'è un fallo su Jokanovic. Può ripartire dai 9 metri il Salerno. Jokanovic tira in sottomano. Debole, murato anche il suo tiro. Fa buona guardia. Giona che non ha problemi a far ripartire le proprie compagne. Ecco Jorgensen. Poi il rotondo. Ragiona il Conversano che attacca sulla difesa schierata di Salerno. Chiarappa. Ganga. Barani. Jorgensen. Eccola. Va lei al tiro. Jorgensen. Para. Facile. Jacobello. Avram alza la testa. Vede subito Coppola. Poi la palla per Jokanovic che è lanciata. Scarica bene per Napoletano. La parata di Giona. Ricomincia Conversano. Jorgensen. Va. Ganga. Ganga. Il vantaggio. Primo vantaggio della partita per il Conversano. Al quarto minuto. Il 3 a 2 di Giusy Ganga. E Salerno adesso deve recuperare una rete. Ceklic. Napoletano. Jokanovic. L'anticipo. Netto. Di Ganga. Su Jokanovic. Va Ganga sola. Poi va lei. E sbaglia. Era andata in solitaria a concludere. Palla che ha battuto però sul palo esterno ed è finita fuori. Occasiona sprecata. Questo frangente da Giusy Ganga. Avram per il Salerno. La buona difesa qui di Ganga. Conversano che in estate ha salutato diverse giocatrici. Protagonista dello scudetto dello scorso anno. Su tutte. Intanto c'è il gol. Il gol di Ceklic. Che pareggia. 3 a 3. Dicevamo su tutte. Di Pietro e Albertini. Approdate al Team Teramo. Alice Piffer. Il portiere. Compagna di reparto. Di Martina Giona. E l'ala destra. Gwendalina Madella. Intanto vediamo. C'è il tentativo. Non c'è fallo però su Barani. E allora Salerno che può provare adesso a portarsi in vantaggio. C'è però la palla recuperata. Bene dalla difesa del Conversano. Qualche incertezza per Ganga. Poi si può ricominciare. Ganga. Rotondo. Ganga buona la sua penetrazione. Molto bella la finta. Vincente di Giusy Ganga. Di nuovo avanti Conversano. 4 a 3. Minuti trascorsi sul cronometro. 6. Ceglic. Ceglic. Jokanovic. Avram. Ceglic. Fa girare palla. Salerno. Non c'è fallo. Non c'è fallo. Su Coppola. Ce l'ha sembrato di udire un fischio. No. Allora. Di nuovo l'attacco veloce di Conversano. Rotondo. Rotondo. Si alza lei. Palla che batte sul palo. Ma c'è stato però un tocco da parte del muro in precedenza. Ci sarà un angolo sul versante destro del campo. Sarà Chiarappa. A rimettere palla in gioco. Jorgensen. Ganga. Poi Rotondo. Ganga. Subito. Prato la sorpresa. La palla che resta lì. La caparbietà. Di Elena Barani. E la raccoglie. La ruba dalle mani della difesa. Di Salerno. E fa segnare il 5 a 3. Più 2. Al settimo minuto. Conduce Conversano. Jokanovic. Poi Ceklic. Jokanovic. L'incrocio. Avram. Ceklic. Vedete che c'è molta pressione. Da parte di Elena Barani. Che si prende cura. In qualche modo della ex compagna. Viene ammonita qui Elena Barani. Però fa una gran pressione. Adesso prova a far ruotare gli uomini in attacco Cardaci. Anzi le donne. Le giocatrici. Ceklic viene impiegata come centrale perché era davvero asfissiante la marcatura di Barani che le impediva di caricare i tre passi. Ora però Avram torna nel suo ruolo naturale di centrale. Ceklic terzino sinistro. Avram fa fatica però Salerno a bucare la difesa di Conversano. Jokanovic. Guardate la pressione. Ceklic libera lei il tiro. Traversa. La palla che resta lì. E poi Giona. L'erroraccio però di Ganga che regala il pallone nelle mani di Salerno. Coppola deve calmare l'azione perché non c'è nessuno. Con calma Avram che va ad organizzare il gioco di Salerno. E lei la mente. Avram. Jokanovic. Ceklic. A girare palla. Poi Pavlik. L'incrocio. Ceklic aveva lasciato palla a Napoletano. Napoletano sull'esterno della rete. Da solo l'illusione del gol. Risultato che non cambia. Nono minuto. 5 a 3. Avanti Conversano. Jorgensen. Poi Rotondo. Rotondo va dentro a lei. E il gol del 6 a 3. Laura Celeste. Rotondo. Massimo vantaggio. Dopo 9 minuti per il Conversano. Più 3. 6 a 3. C'è il time out. Chiamato da Cardaci sulla panchina del Salerno. Dovuto fermare in qualche modo il break delle pugliesi, delle padroni di casa Cardaci. 6 a 3. Figgiaca Supercoppa 2015 che anticipa a tutti gli effetti l'inizio del campionato. Si comincia sabato prossimo, 19 settembre. Sarà una prima giornata in piena regola perché oltre alla Serie A femminile si comincia anche in Serie A maschile. Sarà un campionato naturalmente tutto da seguire. Che riparte con i titoli nelle mani di Bolzano tra gli uomini e Conversano tra le donne. Bolzano si è confermata squadra da battere dopo la vittoria della Supercoppa al maschile. Vediamo stasera come andrà qui tra Conversano e Salerno. Intanto le pugliesi conducono 6 a 3 dopo questo time out. Vedete Avram e c'è i glitch che hanno qualcosa da dirsi. E ovviamente Avram che imposta le azioni offensive di Salerno. Certamente c'è qualcosa da rivedere dopo qualche errore di troppo in queste prime battute. Dopo un avvio positivo Salerno adesso si trova a rincorrere. Aggiornamento da Bolzano intanto. Bolzano avanti 26 a 20 a 10 dalla fine sulla formazione islandese dell'Aucar. Primo turno di EHF Cup. Ceklitz. Avram Ceklitz libera Leil. Conclusione apparato però. Giona. Velocità. Jorgensen in palleggio. Scarica per Ganga. Poi Rotondo. Vediamo se riesce a liberare per Babbo. Tra le mani di Jacovello. Allunga ancora con Versano. 7 a 3. Giada Babbo. Non ha sortito gli effetti sperati il time out di Salerno. Allunga ancora con Versano. 7 a 3. Jokanovic. Avram. Ceklitz. Poi Avram. Ancora Ceklitz. Dialogano le due. Avram prova Leil. Uno contro uno. Non si passa. Libera però per Jokanovic che è tutta sola. Può andare a realizzare. C'è un'ammunizione per Jorgensen. Attacca adesso. Conversano. 7 a 4. Si è ridotto a tre reti. L'avvantaggio. Fa girare palla. La formazione di casa. Rotondo. Si alza. Molto bene. Libera il destro. E la mette dentro. 8 a 4 all'undicesimo. Più 4 ancora con Versano. Vedo le formazioni. Vedete come prediligono per ora attaccare sulle difese schierate. Ceklitz per il Salerno. Jokanovic prova l'uno contro uno. Deve però rallentare l'azione Pavlik. Chiama un incrocio. Avram. Poi Pavlik. La palla che resta lì. Entra bene. Nelle maglie della difesa di Conversano. Liubis a Ceklitz che mette dentro la palla dell'8 a 5. C'è un'ammunizione per Rotondo intanto. E ora cambia difesa Salerno che va a marcare a Uomo. Laura Rotondo con Coppola. Marcatura a Uomo dopo solo i 12 minuti. E Ganga però va a sbagliare banalmente questa conclusione. Molto alta sopra la traversa dalla porta. Difesa da Jacovello. Jokanovic la parla da Salerno. Ha parato però. Giona. C'è il lancio. Attenzione la palla che resta lì. Barani. Non riesce però a recuperarla. A più centimetri. Ceklitz che permette a Salerno di attaccare per il possibile meno 2. 8 a 5 il punteggio in favore di Conversano. 12 e mezzo che se ne sono andati in questo primo tempo. Qui alla palla San Giacomo. Avram. Jokanovic. A terra Jokanovic. Avram. Ceklitz. Jokanovic. La finta di Avram che però non riesce a girarsi e a liberarsi del difensore. Ci riesce invece l'Ubiza. Ceklitz è molto brava. Buono il suo piede perno. Trova una soluzione efficace intanto alla velocità. Qui di Babbo. 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 Che gran gol. Che gran gol di Babbo. Questa ragazza ha coraggio da vendere. Ricordiamo si tratta di un'atleta giovanissima. Classe 97. Non ha avuto paura di puntare. La molto più esperta Oksana Pavlik l'ha lasciata sul posto e ha messo dentro la palla che vale il 9 a 6. Sempre Conversano avanti. Minuto 14 del primo tempo. Fuori misura il passaggio. Salerno che perde palla. Torna in avanti. Conversano. Jorgensen. Brava. E poi Babbo ancora. Sul servizio di Barani. Più 4 di nuovo. Conversano. 10 a 6. Costituzione tra i pali intanto per Salerno. Vedete inquadrata la neo entrata. Elisa Ferrari. Nuovo arrivo. Nell'estate di Salerno. Nel mercato estivo. Intanto Jokano vince. E c'è Giona a salvare la difesa di Conversano. Che era saltata praticamente a vuoto. Sulla finta. di Jokanovic. Dai 6 metri. Poi ci ha pensato Martina. Giona. Providenziale. In più di un'occasione. Anche nello scorso anno. E' molto brava in questo frangente. Si ricomincia con Ceklic. Poi Napoletano. Coppola. Avram organizza l'azione. Salerno. Avram. 10 a 6 il punteggio. Se ne è andato il primo quarto d'ora. Avram. Fermata. C'è fallo. Jokanovic. La finta. Poi c'è fallo. Su Ceklic. 9 metri. Jokanovic. Avram. La finta. Si era riuscita a girare. Non ha però tirato. Si è alzato il braccio del passivo. Deve tirare. Salerno. E lo farà. Ripartendo dai 9 metri. Con ogni probabilità. Sarà. Ceklic a concludere. Anzi no. Jokanovic. Jokanovic. Valei. Sporcata dal muro. La conclusione. Ancora passivo. Deve comunque. Affrettarsi a concludere. La squadra campana. Pavlik. Addosso a Giona. Babbo. Babbo. Bella palla per Barani. Barani. Valei. Non c'è fallo. Si ricomincia. Avram. Poi Coppola. Jokanovic. Ah. Babbo era quasi riuscita nell'anticipo. E c'è il gol di Avram. Che riporta Salerno. Sotto. 10 a 7. Sedicesimo minuto. E partita ancora apertissima. Salerno che si dimostra. Squadra. Maidoma. Composta da giocatrici di grande esperienza. Attenzione però perché Rotondo. Va lei a liberare. Apparato. Ferrari. C'è un fallo. Vediamo. Ammunizione per Jokanovic. e Barani si è conquistata. Un tiro dai 7 metri. Al diciassettesimo. 10 a 7 il punteggio. E c'è il gol di Rotondo. Che batte Ferrari. 11 a 7. Torna sulla più 4. Il conversano. Jokanovic per Salerno. Napoletano. Jokanovic. Lauretti Matosch che è entrata a sostituire Avram. C'è Glitch. Lauretti. Apre per Pavlik. Poi Lauretti. Prova la penetrazione. C'è fallo. Coppola. Pavlik. Pavlik si alza sul muro. Che le tocca però la palla. Rende facile la vita di Giona. Nulla di fatto per Salerno. 11 a 7. La velocità. Intanto di Rotondo. C'è lo sfondamento su Ceklitz. Non è stato efficace il cambio di direzione ad opera di Rotondo. Coppola. Jokanovic. Lanciata al tiro. Ancora un muro di Rotondo. Angolo. A beneficio di Salerno. Napoletano. Ceklitz. Jokanovic. Matosch. Pavlik. Lauretti Matosch. Jokanovic. Poi ancora Jokanovic. Prova la servire Pavlik. Che tira. Quasi alla ceca. Ma la mette dentro. 11 a 8. E Giona dall'altra parte. Sfortunata perché Ferrari sporca il tiro. Quanto basta per mandarlo fuori. Mianto. Jokanovic. Lauretti Matosch. nulla di fatto c'è il gol intanto per Giusy Ganga dall'altra parte con Bersano torna avanti 12-8 più 4 quando siamo al ventesimo minuto Jokanovic per Lauretti Matos poi Ceklic attenzione perché la palla viene riconquistata da Bersano Babbo è sola e spara alto sprecata questa occasione letteralmente da Java Babbo che ha concluso completamente fuori misura fallisce la palla del possibile più 5 12-8 sempre 10 alla fine del primo tempo 10 all'intervallo Ceklic Jokanovic Lauretti ancora una palla persa da Lauretti Babbo alla seconda chance è sola Babbo e stavolta non fallisce 13-8 centrata la palla del più 5 nuovo massimo vantaggio di Conversano al ventunesimo Giada Babbo in contropiede fallo fallo su Lauretti Matos Jokanovic efficace qui la difesa di Jorgensen e Rotondo Jokanovic Ceklic ancora la chiusura in 3 su Coppola tutte fuori dai 9 metri Jokanovic l'incrocio Lauretti Lauretti Chiarappa Jorgensen Ganga la sua finta Ganga attenzione non c'è fallo la palla che è in possesso di Salerno per rimettere in gioco Elisa Ferrari eccoci con Salerno che attacca Coppola Napoletano prova con Cap Arbietà si va a conquistare questa rete resta a terra Barani che aveva provato ad opporsi con il corpo per guadagnare uno sfondamento sfondamento che non c'è stato la rete segnata dal Salerno 13 a 9 di nuovo più 4 dolorante Elena Barani che viene soccorsa allo staff medico del Conversano fermo il gioco difficile pensare che una guerriera come Elena Barani possa lasciare il campo si riprende a giocare 22 minuti sul cronometro Babbo per Conversano Rotondo Ganga Jorgensen Rotondo Ganga costruisce l'azione Conversano il giro di palla Rotondo a spazio per tirare sul muro però il lancio per Napoletano da parte di Ferrari c'è fallo di Chiarappa Lauretti Matos Jokanovic poi Ceklic la penetrazione ancora Pina Napoletano due attacchi due gol per lei nelle ultime due azioni 13 a 10 riduce a tre segnature il divario Pina Napoletano Conversano che attacca Rotondo Jorgensen Ganga Rotondo Jorgensen Ganga la palla per Babbo che va a piazzarsi come doppio pivot Jorgensen vediamo va lei al tiro e trova una gran rete sul piede destro la mette all'incrocio dei pali battuta Ferrari 14 a 10 la prima rete italiana tra virgolette di Jorgensen la danese arrivata in estate a Conversano Jokanovic poi Ceklic per Salerno Coppola che si gira c'è il fallo ci sono gli estremi per un tiro dai 7 metri in favore di Salerno che proverà ad accorciare quanto mancano 5 minuti e mezzo alla fine del primo tempo intervento dello staff medico di Salerno per assistere Donella Coppola che ha subito un colpo alla schiena il gol messo a segno da Elena Laura Avram 14-11 di nuovo tre gol a dividere le due squadre quando siamo al venticinquesimo minuto Ganga Rotondo Ganga Jorgensen poi Rotondo ha spazio per concludere fuori misura palla che finisce fuori serie di attacchi infruttuosi per Conversano Coppola Ceklitz attacca Salerno l'anticipo di Jorgensen vediamo se c'è il lancio sì per Babbo che è tutta sola Babbo il gol 15-11 15-11 al venticinquesimo minuto e trenta secondi buona la difesa di Conversano che poi in velocità va a colpire rimette la testa avanti sul più quattro Avram non trova non trova spazio della EHF Cup maschile domani si replica sempre al Palaga Steiner per il match di ritorno Alto Tesini che partono ovviamente con un vantaggio importante time out intanto qui al Palas San Giacomo 15-12 il punteggio in favore di Conversano avete visto questa bella panoramica del pubblico presente qui al Palas San Giacomo che non ha voluto mancare al primo appuntamento della stagione il primo appuntamento con la grande pallamano femminile TGH Supercoppa 2015 Conversano che conduce 15-12 su Salerno al minuto 26 14 secondi del primo tempo Conversano che attacca Rotondo Ganga Jorgensen Barani Rotondo le finte di Ganga Rotondo vediamo c'è fallo da parte di Avram Rotondo Ganga lascia palla Jorgensen che ne tiene comunque il possesso e con intelligenza si conquista un fallo 9 metri Rotondo Rotondo va dentro e mette a segno 16-12 27esimo minuto di nuovo più 4 per il Conversano Avram Jokanovic Avram lascia palla Jokanovic che però non trova spazio tra le maglie della difesa di Conversano fermo 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 il tempo per permettere l'asciugatura del parquet del Palazzo San Giacomo 16-12 attacca attacca Salerno Avram che spreca malamente questo pallone la velocità di Babbo traversa la palla che però resta lì Jorgensen para Ferrari doppia opportunità sprecata dal Conversano per allungare in questa fase finale del primo tempo siamo entrati nel 28esimo minuto se ne sono andati anche i primi 12 secondi 16-12 Jokanovic 1.30 alla fine del primo tempo Jokanovic Napoletano fallo di Barani Ceklic Jokanovic le sue finte la palla che resta lì c'è il fallo su Coppola Jokanovic ancora si alza il braccio del passivo deve tirare Salerno vediamo Pavlik vale al tiro spiazzata Giona che si arrabbia col suo muro il gol di Pavlik per il 16-13 Jorgensen vale in palleggio poi lascia Rotondo Rotondo vale al tiro apparato Ferrari 30 secondi 30 secondi alla fine del primo tempo proverà con questo presumibilmente ultimo attacco Salerno la velocità attenzione Coppola l'ha messa dentro con un colpo di coda Salerno è tornata sul meno 2 10 secondi alla fine del primo tempo Rotondo 5 secondi Rotondo Jorgensen vale al tiro para Ferrari finisce così il primo tempo 16 a 14 il risultato in favore di Conversano Salerno che ha alzato leggermente i ritmi nel finale di tempo riportandosi dal meno 4 al meno 2 primo tempo che finisce dunque 16 a 14 conduce Conversano sul Salerno in questa gara che assegna la FIGH Supercoppa 2015 noi torniamo in telecronaca tra poco per il secondo tempo qui in diretta dal Palas San Giacomo di Conversano Grazie a tutti 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 Palleggio Grazie a tutti 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 Salerno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti